Al Capigruppo c'è stato un confronto tra maggioranza e opposizione, noi pensiamo che dando tutti i tempi disponibili alla minoranza per poter fare il proprio lavoro si possa benissimo chiudere entro domani sera, entro domani sera chiudere col voto di fiducia, invece l'opposizione spinge per il 29 la mattina quindi ci sarà probabilmente domani il voto sul calendario con queste due opinioni differenti, insomma nel Capigruppo abbiamo stabilito che ci sono circa sei ore e mezza di discussione generale penso che ci sia tutto il tempo per poter affrontare la questione anche perché noi qui al Senato abbiamo comunque un regolamento diverso rispetto a quello della Camera quindi possiamo fare più in fretta L'opposizione però non è d'accordo su questo, dovevano esserci tempistiche diverse? In realtà tutto, ripeto, se la relazione tecnica come sembra riesca ad arrivare entro le 15.30 di oggi ci sono tutti i tempi anche per presentare gli emendamenti in commissione per discutere in commissione e domani mattina arrivare in aula e da lì affrontare la discussione, insomma anche perché sappiamo bene come succede più volte che poi sulla manovra economica una volta che viene esaminata in un ramo del Parlamento, sull'altro ramo c'è il voto di fiducia e arriva blindata quindi insomma diventa più una discussione politica su temi che già si conoscono e sono stati abbondantemente dibattuti alla Camera dei Deputati